Si riparte così da una situazione di classifica più unica che rara. Si riparte con gli incontri della terza giornata senza una squadra a punteggio piena dopo due turni nel girone H di Serie B. Le carte in tavola, non lo si può certamente negare, potrebbero cambiare ben presto. Di sicuro la partenza è stata caratterizzata da grande equilibrio e da più di una sorpresa. Non sorprende affatto vedere nel gruppo di testa il Bitonto, serie candidata al salto di categoria Nero Verdi, che hanno ora nel Mirino anche la prima vittoria interna di questo campionato dopo il successo del Fanuzzi di Brindisi. La squadra di Claudio De Luca, chiamata a viaggiare ad altissima velocità, ci proverà domani pomeriggio a partire dalle ore 15 al Città degli Ulivi contro un sorrento ferito dalla sconfitta interna contro la Virtus Matino. Promette e tanto anche il derby in programma sulla Murgia a partire dalle ore 16 tra Grabina e Biceglie. I padroni di casa proveranno a viaggiare sulle ali dell'entusiasmo dopo il colpaccio di Altamura. I nerazzurro stellati si presenteranno al vicino sia da imbattuti in questo campionato che come unica squadra delle venti del raggruppamento a non aver incassato Retti nelle prime due giornate. Derby del Salento invece al Giovanni Paolo II. Nardò contro Casarano, una vittoria e una sconfitta per entrambe sin qui. Cerca i primi punti in campionato il team Altamura, faccenda tuttavia tutt'altro che semplice per i murgiani impegnati in trasferta contro una casertana che continua costantemente a rinforzarsi sul mercato. Deve cancellare lo zero in graduatoria anche il Brindisi che incrocia in trasferta il proprio cammino con quello della Nocerina in una sfida sempre di grande fascino. Giocherà in campo avverso anche il Fasano, abbinamento complicato per i biancazzurri di Beppe Mosca opposti a Lavello, una delle squadre più forti soprattutto in attacco del raggruppamento. A completare il programma della terza giornata di Serie D, il derby lucano al Fittipaldi tra Francavilla e Insigni e Rotonda sulla panchina degli ospiti debutterà il neotecnico Tommaso Napoli.